La produzione è ormai in esaurimento e Varsile Italia chiede un confronto per attivare il contratto di solidarietà a partire da maggio, lasciando a casa i lavoratori per l'80% dell'orario di lavoro. Ma in assenza di certezze sul futuro dello stabilimento di Bagnoli, istituzioni e sindacati sono compatti nel dire no all'ammortizzatore sociale. Se decidono di chiuderla completamente entro una certa data è chiaro che non si può far pagare alla collettività italiana il risparmio economico della multinazionale che ha trattato in questa maniera il Paese. Noi non siamo contrari all'ammortizzatore sociale per utilizzare una fase di transizione e di reindustrializzazione, ma questo deve avvenire solo e successivamente aver fatto una discussione con chi acquisisce il sito. Quindi dobbiamo percorrere una strada con la luce accesa, non al buio. I lavoratori devono avere certezze davanti. Il prossimo vertice al Ministero a Roma è previsto martedì prossimo, 18 aprile. In quella data i sindacati si aspettano di conoscere i nomi delle aziende interessate a rilevare l'attività. Dovranno esserci proposte vincolanti e credibili sul tappeto. Noi ci aspettiamo prima di tutto che dall'incontro emerga l'ufficialità dei nomi di chi ha presentato delle proposte vincolanti sull'acquisizione della produzione di Varsia. Quindi la prima informazione che dobbiamo acquisire è questa. Il tavolo del 18 a Roma sarà determinante. Là si cominceranno a scoprire effettivamente le carte, emergeranno i nomi, ma soprattutto cominceranno a emergere i progetti industriali che stanno dietro sia alla reindustrializzazione della produzione che anche i piani industriali di Varsia e Italia per i 650 lavoratori e lavoratrici che rimangono sul sito di Trieste.